10 5 4 3 2 1 vai destra 2 ok 2 più no 30 sinistra 4 gira tieni molto sconnesso che c'è Antonio? differenzia 40 invito sinistro per destra 3 giratieni 3 giratieni 3 giratieni 80 al palo invito destro in sinistra 3 chiude tieni 3 chiude tieni 30 al bosco sinistra 4 meno meno per destra 3 2 tempi tieni sporco 3 2 tempi tieni sporco 30 al muro rosa sinistra 3 anticipa poco e vai 100 3 anticipa poco e vai 100 al vuoto muretto sinistra 3 più tieni corda 3 più tieni corda 30 al muro destra 3 tieni e vai 200 vai 200 al palo rosso frena per sinistra 3 più tieni corda palo rosso frena per sinistra 3 più tieni corda 3 più tieni corda 50 e rosso sinistra 4 meno e che cazzo 4 meno per destra 4 meno e al rosso muro destra 3 per attenzione sinistra 1 ceca 1 ceca 80 vai guardati dietro stringe 50 attenzione alle pale stacca rosso sinistra 1 no stacca rosso sinistra 1 no occhio esterno vai 250 stringe muro vai 50 a rosso stacca stacca sinistra 2 no 2 no stacca 2 no 70 al muro palo 70 destri 50 e che cazzo 70 destri 50 alle lucette stacca sconnesso per sinistra 3 meno corda subito in versione destra 3 meno corda subito in versione destra in versione destra 50 destri e vai 100 conviene 50 destri e vai 100 e al muro si per destra 3 rosso tieni poco 90 scende pini alti 100 vai attenzione attenzione rosso colonnetta stacca per destra 3 meno corda subito sterrato e occhio sinistra 2 cambio asfalto vedi che sta dietro 2 cambio asfalto vai 10 sinistra 3 più falli passare muro verde accenna destro no per tornantino sinistro 20 sinistri in tornantino destro più tieni tornantino destro più pieni vai 40 al vuoto muro dai che è finita destra 3 scivola destra 3 scivola e vai 150 per fine ps vai vai che è finita vai vai che è finita ok stop 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 stop